Il PD interviene sui fondi Restart dedicati allo sviluppo economico. I Dem hanno inteso intervenire perché a seguito di note istituzionali da parte di diverse associazioni, la risposta del sindaco Pierluigi Biondi è per loro inaccettabile nel metodo e nel merito, perché pensa, hanno detto, di zittire chi non la pensa come lui. La verità hanno spiegato è che ci sono tantissime risorse ferme. Cosa sono prima di tutto le risorse Restart? Sono quelle risorse perché per ogni assegnazione di soldi dallo Stato che arrivano sul cratere per la ricostruzione fisica, il 4% viene accantonato per rilancio economico e sociale. Ora, queste risorse sono importantissime. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un'interrogazione, al Comune abbiamo chiesto quante risorse ancora erano disponibili di Restart 1, erano circa 47 milioni di euro, tante erano l'anno scorso e tante sono adesso. Queste risorse stanno prendendo la muffa praticamente da 5 anni in Regione, ed è una cosa gravissima perché in questi anni abbiamo avuto la pandemia, una serie di problemi per cui misure di sostegno a commercio e imprese sarebbero state necessarie. E poi c'è il Restart 2, cioè i soldi della nuova assegnazione delle risorse per la ricostruzione fisica. Sono 110 milioni di euro. La norma prevede che su queste risorse si debbano fare, primo, una programmazione, secondo, una concertazione con tutto il territorio. Queste risorse sono scomparse dai radar della discussione, anzi, biondi ogni volta qualcuno le cita, è evidente che è infastidito. Noi pensiamo che il territorio siano tutte le articolazioni della città e che bisogna sviluppare subito questa discussione. Biondi evidentemente pensa che per territorio siano bastevoli lui e Marsilio. Noi non lo accettiamo. Se non lo faranno loro una grande concertazione, chiameremo noi la città a discutere su come programmare queste risorse per un progetto di rilancio. Anche il consigliere Stefano Palumbo ha avuto da ridire sull'atteggiamento di Biondi. I soldi, la verità ha aggiunto, è che non sono stati impegnati e quindi è indispensabile capire e farne oggetto di dibattito pubblico per stabilire anche che impatto reale hanno avuto sul territorio. La Pezzopana ha spiegato che su questa vicenda dei fondi del 4% e di Restart loro intendono fare un'operazione di verità e di rilancio. Ogni giorno dovrebbe ringraziare il PD Biondi a tuonato perché tutte queste misure sono frutto del nostro preziosissimo lavoro. Grazie a tutti.